La funzione pubblica CGL denuncia la situazione di caos presente da giorni all'ospedale Mazzini di Teramo, dove è in corso una specie di rivolta del personale e dei pazienti, accomunati dallo stesso disagio. Non se ne può più di leggere e vedere che l'ospedale Mazzini ha collasso, dichiara il segretario provinciale Amedeo Marcattili, la cronica carenza di personale si assomma al fallimento della gestione del personale all'interno del presidio, vengono puntualmente scavalcate le norme in materia di riposi e di ferie. In reparti come pediatria e ginecologia spesso c'è un solo infermiere di turno e questo va chiaramente a scapito dell'assistenza sanitaria necessaria. I vincoli normativi che non permettono nuove assunzioni non possono essere più usati come giustificativo rispetto a quanto sta accadendo, nessuno può nascondersi più dietro i numeri e dietro le formule matematiche che di fatto hanno portato all'attuale situazione fuori controllo. La situazione ampiamente prevedibile sia per l'insufficiente numero di personale sia per la riduzione di presenza degli operatori per ferie non è stata gestita affatto e per questo la funzione pubblica CGL di Teramo denuncia e chiede la revoca immediata dell'incarico dirigenziale alla direzione sanitaria di presidio. A pagare non possono essere i malati, i cittadini e gli operatori, continua Marcattili, è per questo che il sindacato inoltrerà la richiesta di incontro con il comitato ristretto dei sindaci per farsi carico della situazione e trovare soluzioni congiunte. E al presidente Gianni Chiodi che oggi è in grado di farlo grazie al pareggio di bilancio si chiede di intervenire immediatamente per ridurre i margini di risparmio imposti all'asle di Teramo, il 4% della spesa complessiva, nel piano di rientro per consentire le assunzioni minime di personale e quindi impedire che venga messa a rischio l'assistenza sanitaria ai malati.